Il mio amico Claudio coi guantini, vieni che facciamo un brindisi con il mio amico Claudio poi andiamo a vedere qua in mezzo a sta lebbia cosa c'è. Ascolti il canale che oggi ti ciulo tutte le funglie, devi chiudere il canale, vieni i brindisi vecchietti, ci va un po' di magnesio e potassio dai, facciamo il brindisi con la pastiglietta dai, alla tua. Va bene dai ragazzi belle cose, e la c'è il mio amico Claudio, quando mi vede con il telefono in mano sa già che c'è qualcosa dai, c'è qualcosa dai, guarda qua, guarda che gambo, faccio tutto, invece te l'ho lì, porca miseria, mamma che be, che bestia, te tieni, filma un po' vai vai. Va bene dai, ci ritroviamo per l'ultima uscita, l'ultima uscita dell'anno come sempre, come l'anno scorso, stiamo tutti gli anni, andiamo sempre insieme, e guarda un po', dai vai, 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 è gnocco, è come dev'essere l'ultima, sempre, è grande è il mix, grande è il mix, è gnocco. fenomeno mix, grande, ottimo ma speriamo di trovarli, dai tocca a lui, l'ha trovato lui stavolta il mio amico questo lo porto io a trovare due funghi, dai guarda, è appena mangiato, il maestro lo trova bianco perfetto beh lo so, lo so, andiamo avanti questa nebbiona, va bene, dai arriva anche al secondo di oggi, oggi è mercoledì 16, dai mercoledì 16 novembre, loro ci sono ancora, stavano nascendo e stanno ancora uscendo guardate che bei pezzi ancora, che bei pezzi, mamma mia, che belli questo è un po' più avanti, ma, eh, 16 novembre ragazzi, 16 novembre, dai uno bruttino, ma, eh ragazzi, cosa vogliamo di più della vita il 16 di novembre, guardate, tutto stramangiato, poveraccio, però, era lì, è uscito, ha resistito, e poi sono arrivate le lumache, dai ancora di nascita, ragazzi, ancora di nascita, guardate, che cosa, incredibile 16 novembre, lo ripeterò tante volte, ancora di nascita, mamma mia, che belli è vicino a questa muscaria, c'è un porcino, mezzo, vediamo, si è rotolato questo è un po' andato chi lo sa, ha scalciato allora, vi ricordo sempre di dare una pulitina, sommaria, dai, a sti funghi togliamocela un po' di terra, anche perché un pochettino bisogna lasciarla per la conservazione specialmente in questo periodo in cui il fungo è molto bagnato se ha un po' meno terra diciamo che è meglio perché ne rilascia meno nel cesto e i funghi rimangono più puliti, dai e poi quando ci si ferma ragazzi, vi faccio vedere quando ci si ferma prendiamo il telefono ok guardate la cosa l'ho vista adesso l'ho vista adesso mentre pulivo il fungo guardate un po' che bello eeeh, questo è bello questo è bello dai va bene, un altro lì, guardate una fungaietta qua c'era quel bel fungona lì poi questi due guardate un po' fantastici molto, molto belli e mentre pulivo il fungo poi l'ho messo qui e ho visto l'altra ragazzi un pochettino di chiarore di bianco strano in mezzo alle foglie guardate gambetto lungo testina piccolissima bianchissimo è strano ehi, girando, dai girando qualcosina ogni tanto esce qualcunino questo completamente sottofoglia guardate che bello guardate il gambo ritorto vediamo di toglierlo dove gira sto gambo guardate che fungo bellissimo guardate che gambo fauna S e vediamo questo come bisogna prendere quello che c'è vediamo insomma altro che insomma dai avercene fughi così questo periodo 16 novembre mercoledì dai altro bocciottino altro bocciottino anche lui un po' mangiato perché le lumacchie con questa umidità ci vanno a nozze dai poi hanno fame tra lumache e caprioli insomma siamo ben presi però dai me l'hanno lasciato una bella parte 16 novembre allora volevo dirvi di ricordarvi che il bosco va rispettato dai alle volte andiamo in giro e passiamo a cose così senza senza far niente senza notarle come se non ci fossero che qualcuno che magari l'ha perso anche involontariamente una una confezione di fazzoletti vuota alle volte non lo si fa apposta alle volte capita però questo è un gesto civile si mette nel cesto insieme ai funghi e appena arriviamo alla macchina poi andiamo a mettere nella differenziata dai fate i bravi arriva arriva un red dai qui dalla sponda del canale avanti però un red pensavo fosse un badius invece poi guardando bene il gambo è un rosso guardate mezzo mangiato dal capriolo ma dai un bel fungo avercene al 16 di novembre ragazzi 16 di novembre penso che qui qualche giorno fino alla fine settimana poi sarà finita anche qua dai e buongiorno a tutti marco non è con me in questo momento perché come vedete c'è un canale che ci separa lui è dall'altra parte della riva che vedete e faccio io il video perché questa qua oggi non è proprio una cosa da vedere qui ne abbiamo ne abbiamo ne abbiamo ecco il primo uno andiamo 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 vicino al cavagno che comunque qualcosa c'è qui c'è il secondo e qui c'è il terzo ed eccoci dai ancora belli ancora belli dai al 16 di novembre ragazzi che funghi che funghi spettacolari un big dai un big un po' avanti chissà come vediamo se mollo se duro è bello duro dai non neanche troppo big comunque fungo eccezionale va bene dai uno anche qui dal sentiero e qualcosina si fa trovare e qualcosetta anche bello perché lei di nascita grazie che roba credibile bocciato gli ampi avanti la c'è un posticino poi torniamo indietro e qui c'è il mimetismo assoluto incredibile da vedere guardate un posto spaccaterra uno spaccaterra dai ogni tanto ora un po di vuoto normale sembrava una foglia non è una foglia è uno spettacolo della natura mamma mia 16 novembre ragazzi guardate che funghi guardate che roba allora c'è il mio amico claudio che ha trovato un fungo com'è claudio è però c'è un bel fungo vieni vieni a vedere dai arrivo che lo riprendiamo dai non ha sbagliato passiamo il canale bello dai aspetta che devo allora dai sto fungo aspettavo a te perché hai trovato a te bello dai 16 di novembre va bene dai c'è il mio amico claudio in calore ne trovavano dietro lato canale c'è il canale c'è claudio mi faccio un bagnetto va bene dai fammi vedere sto marcione porca miseria che bello ti lo dici marcio e boh vediamo dai staccalo un po vediamo com'è è bello dai è bello un po avanti ma è bello dai dai che finisce fritto questo dove lì sicuramente dai stiamo avanti via andiamo lavorare e gli animali hanno fame ragazzi rosicchiano peccato va bene dai funghetti ed eccoci sempre bordo canale marco è sulla riva opposta e anche qua mi fa di nuovo un bel regalo cosa dite sarà un bel fungo cosa dite cosa dite sarà un bel fungo questo sembrerebbe di sì che gambo mamma mia che gambo eccolo qua eccolo qua tutto tutto dedicato a marco ciao marco va bene dai è uscito anche un po di sole ve lo faccio vedere stiamo andando alla macchina però però ancora ancora funghi funghi belli mamma guardate un po guardate un po guardate uno qua e due che meraviglia che funghi mi chiama claudio rispondiamo e guarda claudio raccolto qua due bellezze della natura guerra una cosa bella veramente bella dove eravamo già stati prima dai no fai il video dai fai il video che lo inseriamo nel canale ciao allora la sbracciata del 16 di novembre ragazzi che fuori va bene dai siamo quasi alla macchina c'è il mio amico claudio che raccoglie l'ultimo ma che ultimo dai faccio ci voleva saluto mamma mia che siamo arrivati quasi alla macchina mamma mia porca miseria che bello spettacolare è bello dai prima della macchina lui andiamo su facciamo vedere cosa abbiamo raccolto dai ok va bene dai gli ultimi però qua vediamo come qui dal canale e un po avanti andiamo un po avanti va bene dai abbiamo finito la battuta siamo qui col claudio sicuro che abbiamo finito? sicuro marco no parco giochi com'era? ci siamo divertiti dai facciamo vedere qualcosina va bene dai una testa e ci siamo davvero per essere al 16 di novembre 16 di novembre 16 di novembre ieri c'era ancora il G20 a Bali in Indonesia così non raccontiamo va bene dai alla prossima salute a tutti ciao alla prossima